E' martedì e su Zamptube torna quattro chiacchiere con l'ospite di oggi è Gino Borsori che dopo tanti anni nel team di Aspar Martinez passa nel team Pramac Ducati, diventa il team manager del team Pramac Ducati, l'unico team, ricordiamolo, che nel 2023 avrà le Ducati ufficiali, le GP23. Due piloti fortissimi, Orge Martin, talento straordinario, e Joan Zarco, pilota veloce che però non ha ancora vinto un gran premio in MotoGP. Ma un team satellite può vincere il titolo mondiale della MotoGP? Impresa molto difficile, ma vi aspetto in diretta alle 19.30 con le vostre domande, lo chiederemo direttamente a Gino Borsori. Ciao a tutti alle 19.30, vi aspetto!